ragazzi buona giornata da mickey crow oggi vi presento un canale che da pochissimo mio moderatore capitano 0 7 canali su youtube da 24 iscritti lui vedete che gioca tantissimo come vedete dai dai video a fornit e il suo iddi su fornit e mark trattino basso su ora e vedete vedete quanto quanto gioca quanto gioca fornit ma non solo vi consiglio di passare lui è praticamente qua mark trattino basso su moderatore del mio canale quindi visitate visitato oppure ben volentieri un bravissimo ragazzo attivate se vi iscrivete attivate la campanellina e presente anche sui miei canali in primo piano quindi nella mia prima pagina del canale mickey crow quindi lo potete trovare anche direttamente lì vi faccio vedere che il canale è nuovissimo perché è presente dall 11 luglio 2022 quindi a tempo per crescere da pochissimo alla community quindi vi consiglio di di usarla ecco qua nuovamente vi faccio vedere anche il video che ha fatto e questo è il suo luogo ragazzi capitano 0 7 su youtube 24 iscritti iscrivetevi ragazzi gg da corrido allenato mickey crow hey guys